Ma io esprimo le mie opinioni, vedo che qualche volta sono oggetto di discussione, hanno anche un certo seguito. Lo faccio con spirito costruttivo, lo faccio perché penso che siamo un partito plurale, lo faccio perché è bene che questo partito abbia più voci, più esperienze, più punti di riferimento. Poi io sono convinto che bisogna sostenere il governo, che questo governo fa cose importanti per il Paese. Alcune le condivido in toto, altre ho qualche riserva, altre ancora ho da proporne. Tutti a cena con Enrico Rossi, il governatore della Toscana in corsa per la segreteria nazionale del Partito Democratico, ha cenato con iscritti e non ad un incontro conviviale a Villa Severi dal titolo A cena con Enrico Rossi, organizzato dal PD Aretino. Tra i partecipanti anche Francesco Romizzi e tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria. Impossibile non notare l'assenza dell'onorevole Marco Donati, renziano della prima ora, e del consigliere comunale del PD Matteo Bracciali. Una cena dunque che non era riservata ai soli iscritti. Tra i tanti argomenti affrontati dal governatore, primo fra tutti le primarie. Io ci credo nelle primarie, ma bisogna trovare un modo per regolarle. E qui davvero non mi riferisco solo a Renzi. Insomma, Bersani è stato segretario del partito per un lungo periodo. Ci sarà un modo per fare questo elenco degli elettori che si aggiorna e poi a un certo punto si smette di aggiornarlo perché altrimenti potrebbe essere strumentalizzato e registrare iscrizioni non valide e poi dare una regola a livello nazionale. Dopodiché, secondo me, è sbagliato che al Bassolino si sia candidato, ma è anche sbagliato non accogliere per la scadenza il ricorso. Quindi, attenzione, un partito va governato, siamo un partito complicato, rappresenta tante realtà, tante istanze. Il governatore si è poi soffermato a parlare di tanti argomenti, tra cui l'indagine della Guardia di Finanza su Sei Toscana. Ovviamente si parla dell'indagine. È vero, ho letto gli articoli sul giornale, dopodiché vediamo quali saranno gli sviluppi. Sul Museo dell'Oro ad Arezzo Rossi conferma la sua disponibilità, mentre sul ritardo dei decreti che dovrebbero stabilire le regole dell'arbitrato per fargli avere i soldi ai risparmiatori di Banca Etruria, il Presidente rimanda la domanda al Governo. Io ho fatto anche alcune proposte perché poi si faccia prima, anziché ritardare. Si faccia delle commissioni, possono essere fatte dalla Banca d'Italia. Queste commissioni da funzionari esperti, fermo restando che poi a decidere alla fine deve essere l'autorità anticorruzione. Perché ci siano questi ritardi bisogna chiederle al Governo, non lo saprei davvero. Grazie. Grazie. Grazie.